Signore e signori, stasera all'APS Le Sorenze, con la contribuzione del Over the Sky Network. Abbiamo il piacere di avere, anzi non il piacere, il privilegio di avere qui, ho detto bene? Eduardo Rodriguez, facente parte della Buenavista Sociale di Cuba. Buon anno, buon anno, buon anno, buon anno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.